Che ti prende? Ti ricordi di ieri sera? Sì. Allora? Ricordi che mi hai colpito? Ti ho colpito. Ti ho colpito. Non farei sorpreso. E risparmiami la sceneggiata del non ricordo. Mi hai colpito in pubblico, Charlie. E com'è vero che tu mi guardi ora, io me ne vado. No, aspetta, aspetta, aspetta. Va bene, che vuoi? E ha trattato solo di uno schiaffetto. Ti ho dato uno schiaffetto. Ora me lo ridai e siamo pari. Avanti, colpisci, colpisci. Porca puttana. Ma tu non stai per niente bene. Ti ho dato uno schiaffetto, non una botta in testa con un badile. Ora te lo ricordi?